Allora, allora, allora Andiamo a abbassare Leggermente ancora di più la musica E siamo pronti Siamo pronti a scadenare Questo inferno Benvenuti di nuovo Sul mio canale per quanto riguarda Il campionato FIDE di E-Sport FC24 Questa sera Buonasera, buonasera A chi sta arrivando, buonasera a tutti quanti Questa sera annuncio Che rivediamo Gli Echo a 12 punti Ragazzi sono secondi in classifica Se non erro 12 punti contro i Fox Fox che navigano nella Metaclassifica intorno Ai 6 punti E sarà quindi Una partita abbastanza tosta per i Fox Dar spettacolo Anche perché abbiamo visto gli Echo E la loro capacità Nel giocare, sono molto forti Molto bravi, ci saranno tutti e 3 e ti devi andare a presentare Velocemente Mentre Vediamo il ragazzo che In questo caso In live da noi Con le tattiche Vedremo Sarà Alessio Aceto Da TG Off Per quanto riguarda i Fox Mentre dall'altra parte Avremo per gli Echo Marco Cammino E J Gambo 9 Allora Se io non erro Perfetto Giocheremo in veste Bianca Per quanto riguarda i Fox Mentre vestiranno in Maia Nera Azzurra E gli Echo Inter contro Inter Ragazzi Penso si stia rivoluzionando Dopo l'ultima live Questa cosa Si stia Stia cambiando totalmente Da quando ho detto Mi fa strano Mi fa strano Che qua Si gioca solamente Con il Milan E invece Eccola la Che sta Uscendo fuori Il discorso Dell'Inter L'Inter Sta ritornando In voga Sta ritornando Ad essere Scelta E quindi Vedremo un Inter Contro Inter Questa sera Nel frattempo Saluto tutti quelli Che si Ci stanno raggiungendo In live Siamo pronti Per partire Vediamo un po' La tattica Che ha voluto Impostare In questo caso Alessio Aceto Un 3-5-2 Ragazzi Un 3-5-2 È veramente Veramente Tosta Stiamo vedendo Le squadre Che giocano Questo campionato Addirittura Eccolo qua L'ha cambiata 4-5-1 Quindi con 4 difensori 2 centrocampisti Che sono più Mediani E 3-3 quartisti Dietro la punta Centrale Sta sistemando Le ultime tattiche Alessio Ed è pronta A sfidare Marco Cammino E J Gambo 9 Abbiamo di nuovo Gli eco Ragazzi Come stavo dicendo Prima Gli eco Che viaggiano Secondi in classifica Per quanto riguarda il campionato Vediamo I fox sono in casa Ma effettivamente Sono fuori casa Però Dalla grafica Abbiamo Gli eco Fuori casa E Ragazzi Tecnicamente Sono molto favori di loro Su cinque partite Su cinque partite Allora Allora Io intanto vi saluto Ci vediamo Direttamente tra la prima Seconda partita Bella ragazzi Siamo pronti a partire In questo match Scatenatissimo Eccolo qua Subito a partire da sinistra Verso destra Marco Cammino EJ Gambo Che gioca A favore Degli eco In veste Nera Azzurra Mentre da destra A sinistra In veste Totalmente Bianca Abbiamo Alessio Aceto Che gioca Per i fox ATC off Nel frattempo EJ Gambo Parte subito Con la prima azione Prima azione Facciamo tempo A fare la presentazione Che scatena subito L'1 a 0 Devastante L'1 a 0 Parte al terzo minuto Quindi ha battuto la palla Ha gestito il pallone Meravigliosamente Ed è arrivato A purgare Il povero Alessio Che probabilmente Stava cambiando modulo Perché Se non ero Si è spostato A 4 dietro Quindi ha Approfittato di questo momento Gambo E Ha insaccato subito Con l'1 a 0 Bissec Difensore centrale Da una parte Dall'altra parte Invece Se non ero È rimasto Con bastoni E E Acerbi Non so Dobbiamo vedere bene Come Come hanno impostato Il pavarde Il pavarde Sono bastoni Il pavarde Perché mi piace Vedere come Vanno a mettere In campo I giocatori Perché Ogni Player Ha uno stile Di gioco Differente Nel frattempo Attenzione ad Alessio Che prova a ripartire Gestisce il pallone La palla tra Klassen e Barella Klassen anche questo Ed è molto curioso La scelta di Klassen Davanti a lui c'è Lautaro Martinez Il tiro C'è l'1 a 1 Attenzione perché Alessio non molla Alessio fa un'azione Che Sembrava Molto Impacciata Lì a centrocampo Ma è riuscita Andare con una squadra Tutta dritta E va a pareggiare 1 a 1 Scusate ragazzi Mi stavo sruzzando Perché È incredibile Come Finora abbiamo visto Partite che Gestivano bene Il pallone Poi attaccavano Difendevano Attaccavano Difendevano Qua con due azioni Bang bang Uno pari E quindi ragazzi Ma cosa ci aspettiamo Questa sera Se già sono partite così Adesso in questo momento Klaassen tiene il pallone Prova ad allargarlo Per Cianaloglu All'indietro Peppa Vard Barella Ancora Klaassen Gira dall'altra parte Dunfris Prova a gestire In questo caso Alessio La palla Poi la palla va Turam Martinez Dall'altra parte Il tacco è per Cianaloglu Vediamo se va al cross Ancora per Martinez Ancora Cianaloglu Tiene il pallone Lo scambio tra i due Attenzione Arriva davanti Al portiere Cianaloglu Che poi Un tiretto Che purtroppo Per loro Non è niente di che Quindi c'è la parata E ora è Gambo Gambo con gambe e spalla E prova a partire Prova a partire subito Con Sanchez Torna indietro con Bissek Mi sto strozzando questa sera Bissek torna indietro Torna indietro Perché va a provare A fare un passaggio lungo E di rimpallo La palla Torna indietro Ma comunque Ancora per Gambo Che tiene il pallone Lo gira per Cianaloglu E dall'altra parte E maestosamente Precisa per Di Marco Di Marco Prova a fare qualche giochetto Per disorientare l'avversario Di Marco Ritorna verso Bastoni Bissek Vediamo un po' Se continuerà a girare il pallone O tornare su Bastoni Vediamo come possiamo vedere Dalla schermata Alessio Come si tiene molto Compatto dietro E evita Il pressing Evita il contrasto Se la sta studiando Molto bene Sa la bravura Di questi ragazzi Che è a contro Vuole gestire al meglio La situazione Soprattutto questo 1-1 Al ventiquattresimo Che ancora regge Però c'è Di Marco Sulla fascia Attenzione Vediamo un po' Se prova il dribbling A Cerbi Gliela toglie Di Marco Prova a fare Ancora un po' Di spalla a spalla Ma la vince Poi a Cerbi E quindi va a finire Mkhitaryan Intanto è un partito Turam Mkhitaryan lo aspetta E poi Klassen Ancora Mkhitaryan Che va su Cianaloglu Vediamo un po' Come la va a gestire Cianaloglu Sembra che tiene Molto il possesso Con i due mediani Aspetta proprio I suoi compagni Che salgono E ancora una volta Azione simile Ma Di Marco Questa volta Non ci casca Ed è pronta a ripartire Palla verso Frattesi Davanti a Frattesi Che gestisce Il contrasto La spallata Se non ero di Cianaloglu Anzi era di Lautaro Riesce a resistere E quindi a tirare il pallone E poi meravigliosamente Duflis dall'altra parte Di Marco Attenzione perché I giocatori Di Marco Stanno entrando Tutti quanti in area E il cross Purtroppo per lui Va a fine In fallo laterale Adesso è Turam A gestire il pallone Cianaloglu Stiamo al limite Dell'aria La palla La recupera Lautaro Martinez Prova a fare 1-2 con Barella Ma ferma tutto Quanto Alessio E quindi Adesso si può Partire in contropiede No Cianaloglu dice No Il centrocampo è mio La comando io E si ritorna In attacco È un asse Cianaloglu Bastoni Mentre Cianaloglu Recupera da una parte E Bastoni Recupera dall'altra Ora è Klassen Uuuuh L'erroraggio Di Alessio E adesso Turam Prova ad affrontare La difesa Di Alessio Ma niente da fare Pavard gliela toglie Ora Cianaloglu Gestisce il pallone Lo alza Barella Rischia Infatti Infatti la palla La palla La palla la va a perdere Gestione della palla Non tanto perfetta In questo caso Attenzione Prova addirittura A chiamare il pallone Con Lautaro Martinez E ora ancora Dunfriss Marco in attacco Gestisce la palla Dietro Aspetta L'errore Dell'avversario Aspetta quello Ma Alessio È molto compatto Lautaro Martinez L'assist è clamoroso L'assist è clamoroso Per Bastoni Che la butta dentro Attenzione però Ferma tutto Ferma tutto Per un fuori gioco Si incavola Bastoni ragazzi Mannacca a quel paese Il guardalinea Uuuuh Il passaggio è sbagliatissimo Però poi riesce A recuperare Alessio E prova a girare Sulla fascia sinistra Verso Dufris Marco recupera Con Bissek E ancora Martinez Lautaro Vediamo un po' La gestisce su Sanchez Turam Non riesce a girare Il pallone E Come va Fuori gioco C'era il fuori gioco Ferma tutto l'arbitro Non va a dare una mano Ad Alessio Ora gira il pallone Alessio Verso la fascia destra Vediamo un po' Lasse Lautaro Pavard Cosa succede? Succede che arriva Cianaloglu Che rispetto a Marco Gioca qualche metro più avanti Ora Lautaro Martinez Arriva a fondo Al limite La passa dietro Ma Di Marco Ferma meravigliosamente Questo passaggio Pericolosissimo E ora vediamo un po' Sul calcio d'angolo Ci manda Klassen Vediamo un po' Se usa bastoni Il cross dentro Bastoni Di testa non va E si libera Marco Buon numero di Martinez Prova a volar via Probabilmente c'era L'ostruzione di Dumfries L'arbitro non fischia niente E quindi Alessio Riesce Ad evitare Questo attacco E prova adesso A ripartire Ancora sempre Con Dumfries Sturam Ma il Dumfries Di Marco Ferma tutto quanto Ora è Klassen Dumfries Ancora Klassen Finisce così Però il primo tempo Uno a uno C'è da dire che Le emozioni In questo primo tempo Sono state poche Quindi ragazzi O sono ancora freddi O si stanno studiando Per bene Sarà un secondo tempo Scommetto esplosivo L'uno a uno È stato scatenato In dieci minuti Prima azione Da parte di Marco Cammino E J. Gambo In arte E J. Gambo Per l'Eco Che porta subito Al terzo minuto Il vantaggio L'Eco Poi D'altro campo Alessio Aceto In arte A TG Off Per i Fox Al decimo minuto Riesce a fare Un'azione Che sembrava Molto impacciata Ma alla fine Ha aspettato I suoi Compagni Salire Come frecce E riuscire a purgare Per l'uno a uno Da là Ci sono stati Semplicemente Una serie di contrasti Passaggi un po' sbagliati Non è stata imprecisa La partita Ma è stata molto Molto Studiosa Fatemi passare Questo termine Ragazzi Nel frattempo È ripartito Del secondo tempo La palla È il paralessio Uh Mighitarian Sgancia Dunfris Uh Lautaro Tenta il passaggio Dentro Ma intercetta Tutto quanto Marco Cammino E ora adesso Sulla fascia sinistra Prova a sfoderare I cavalli di Di Marco Davanti a lui c'è Turam La palla gli arriva Poi il gran dribbling Su Pavard Attenzione Turam Arriva verso il fondo campo Vediamo un po' La palla la chiama Martinez E dietro per Sanchez Il tiro La grandissima risposta Di Sommer Ma che parata Ha fatto Sommer Grandissimo Ed ora batte subito Il calcio d'angolo Barella Sulla tre quarti Ancora per Cianna Loglu Gira dall'altra parte Per Duffris Stop E liscia il tiro Aveva fatto un'azione Clamorosa Marco Aveva fatto un'azione Clamorosa Ma Belliscio Di Duffris Se diventa fondamentale Ma dall'altra parte Attenzione ad Alessio Che è partito Turam Si ferma il passaggio Sbagliato per Lautaro Purtroppo Per lui Ragazzi Da un'azione a un'altra Si stava scaturando Scaturendo Un contropiede Devastante Ferma tutto Grazie all'errore Di Alessio Ma Marco Ben impostato in campo Riesce a bloccare Quest'azione Pericolosissima E adesso però Marco Li stiamo ancora lì Dentro l'area Dell'avversario Un botta e risposta La palla va a fine Ad Alessio Che prova a gestire Il pallone Adesso con Klaassen Klaassen che sbaglia Però il passaggio Di Marco La recupera Carlos Augusto Intanto Entrato nel secondo tempo La Toro Martina Se entra in aria Rischia un po' Alessio Deve rientrare un po' In campo In gioco Alessio Deve rimettersi Un po' Con le idee chiare Perché Marco Sta prendendo il sopravvento Sono già 3-4 volte Che entra in aria Di rigore In maniera molto pericolosa Gli eco sono lì A fremere Per questo gol Del vantaggio Vediamo un po' Se arriva Turam Nel fondo campo Siamo al limite Pette dentro La palla Bastoni La prende Poi si piccia Va a finire All'autaro Il 2-1 Il vantaggio Di Marco Cammino Per gli eco Il vantaggio Di Marco Cammino Riesce a metterla dentro Sono 5 azioni Che sta provando In questo secondo tempo E c'è riuscito E c'è riuscito Vediamo un po' Vuole dilagare Perché approfitta Di un altro errore Di Alessio Prova a partire Il contropiede Martinez Dentro per Turam Troppo lunga Troppo lunga E quindi la palla Ritorna nei piedi Di Alessio Gira il pallone Prova a sfruttare La corsa di Turam Che era andato Comunque in fuori gioco Vediamo un po' Se riesce a fare qualcosa Niente Si sta facendo Prendere molto Dalla fretta E adesso gestisce Palla Marco Vediamo un po' Se vuole andare Sul 3 a 1 Subito O gestire un attimo Il pallone E fare in nervosia L'avversario Vediamo Barella Sembra più la seconda Gestire il pallone Fare in nervosia L'avversario E bucarlo Nel momento giusto Come adesso Turam dentro Per Martinez 3 a 1 Un'altra azione Gestita In maniera Maestosa Gestione della palla Perfetta E poi Inbucata Decisiva Grazie per il follow Il 3 a 1 Di Marco Cammino Che adesso Approfitta ancora Degli errori di Alessio Alessio in un secondo tempo Che ha perso Un po' di concentrazione Da che poteva fare Un 2 a 1 In contropiede Adesso si è messo In seria difficoltà Nel frattempo Benvenuto A chi ci sta raggiungendo In questo momento Live E attenzione Perché Alessio Chiama il time out Vuole gestire un po' La situazione Anche se Continua a giocare Eccolo qua Con Krasen Parte anche Turam Bissec davanti a lui Vediamo se riesce a gestire I palloni No Troppo lento Troppo lento Alla ripartenza Troppo lenta Alla ripartenza E quindi adesso È Marco Con Lautaro Martinez Che sta al limite Esterno dell'area Vediamo un po' Lautaro Martinez Un po' di dribbling Entra in aria Il passaggio dentro Per Sanchez Evita tutto Alessio Evita tutto Alessio Ed è pronta a ripartire Vediamo un po' 75esimo minuto I cambi sono da fare Adesso o mai più Palla lunga Vediamo un po' Sì è fuori gioco È fuori gioco Nessuna paura Per Marco In questo fuori gioco Fischiato dall'arbitro Tranquillissimo Vediamo un po' Cosa combinerà Con questi cambi Alessio Butta dentro Sanchez A posto di Turam E butta dentro Quadrato Vediamo al posto Di Mkhitaryan Attenzione Cambia le fasce Alessio Cambia le fasce Prova a cambiare Anche qualche Setup del modulo Poi decide di lasciarlo così Si può ripartire Per lo sprint finale Ragazzi Manca pochissimo Siamo al 76esimo minuto Ed è una manciata Di secondi Che Poi Arriva il novantesimo Gestisce Palla Lautaro Martinez Mkhitaryan Carlos Augusto Marco Continua a gestire Il pallone Gira dall'altra parte Verso Dunfriss Eccolo qua Dunfriss Dopo un 1-2 Sta per arrivare al cross La palla ancora sul limite Per Mkhitaryan Vediamo se tira No Torna indietro Gestisce ancora il pallone Marco Prova a utilizzare La stessa tattica Di gestione E poi la purgata dentro Come se fosse una lancia Entra nel petto di Alessio E conclude il rete Ancora Vediamo un po' Turam Gliela toglie tutto a bastoni E si può ripartire Del contropiede Vediamo un po' Ferma tutto Bissec Ragazzi Ma Bissec Che intervento Che intercetto Fantastico Una palla Che poteva portare Verso Il 3-2 Alessio Ferma tutto quanto Bissec Ora gestisce ancora Il pallone Prova a fare una tattica Del fuorigioco Alessio E costringe Così I suoi difensori A fare un pressing Ovviamente Forzatissimo Ma è adesso E ancora Marco Prova il tiro a giro La beffeggia Così Con un tiro Di veramente Bassa potenza Riesce a fregare Il portiere Probabilmente Non l'ha vista È partito tardi Il tuffo E niente da fare 4-1 Che sembra Totalmente Aver chiuso il match Adesso sta Alessio Tentare di accorciare A livello di differenza Ledi oppure Di gestire Per evitare Di prenderne altro E Lautaro Prova a spostare Il portiere Attenzione Decisivo Decisivo Ha fatto cambiare In quel micro Secondo La decisione Di Lautaro Martinez Di Marco Cammino E quindi Da che voleva Fare un passaggio Dentro Scatena un tiro Sul palo E di rimpallo La butta dentro Se non erro Turam 5-1 Per gli eco Prova ad andare In velocità Davanti Alessio Ma niente da fare Fermato ancora una volta E quindi poi Marco Cammino Con Dumfries A lanciare lungo Sanchez Vediamo un po' Sanchez Che prova a fare Qualche dribbling Si porta a spasso Di un paio di giocatori Ma arriva con Marsoglio Bastoni ragazzi Bravissimo Bravissimo Bastoni E finisce così La prima partita A favore degli eco Con un 5-1 Di Marco Cammino E G Gambo 9 Nei confronti Di Alessio Aceto A TG off Allora Andiamo ad aggiornare Un attimo I parziali Qua dei risultati C'è un 5-1 Eccoci qua E abbiamo Ovviamente Eccoci qua Dobbiamo aggiustare Adesso i risultati E siamo pronti A vedere La seconda partita Nel frattempo Ci andiamo a spostare Nell'intervenzo Nel frattempo Che ci sta L'invito Tra i giocatori Di eccoci qua Non so Cosa Cosa ditemi Cosa mi volete dire Ragazzi Questa partita Cosa vi è sembrata Io aspetto Voi Che me lo dite Nel frattempo Io sto aggiornando Anche qui I risultati Del primo match Io posso dire Che il primo tempo Era partito In maniera Proprio Fulminia 1-0 dopo 3 minuti Da parte Di Marco Poi L'1-1 Arriva al decimo minuto Subito Dopo Grazie per il forum E un buon barone Fatta da Da Alessio Benvenuto Gambo Benvenuto Nella live Dopodiché Dopodiché Ci sono stati Molti contrasti Molti passaggi Sbagliati E quindi il primo tempo È stato un po' Un po' così Quello che poteva Succedere qualcosa Il secondo tempo Invece ragazzi Sembra aver Messo Le idee Chiare Le idee a posto Marco Cammino E da quando è iniziato Il secondo tempo Al di là Di quel contropiede Che ha fatto Alessio Che poteva portare Il 2-1 E Fox Ha scatenato La goleata Da parte degli Ego C'è stata Una sola Diciamo Una sola direzione In campo Che è stata Quella di Marco Da parte degli Ego Che ha portato Poi a concludere La partita Con un 5-1 Quindi L'approccio Alla partita È stato Totalmente Cambiato Ha cambiato Lo stile Perché abbiamo Visto che Non stava Andando Non stava Portando frutti Quindi secondo me Ha messo un po' Le idee proprio Chiare In testa Ha deciso Di giostrare Meglio La partita E poi Approfittare Del microerrore Ragazzi Che bisogna A livello Delle sport Bisogna Captare Non è una cosa Da tutti Quando uno dice Faccio Il giocatore Di esport Ok O gioco Alla playstation Questi sono I dettagli Ragazzi Questo È il dettaglio Non è solo Cambiare L'impronta Della partita Cambiare La tattica In gioco Ma si E vince La differenza Tra il pro Quindi Chi vuole Fare sport A chi Gioca La playstation Playstation PC Xbox Quello che sia Da Da questi dettagli Ossia Capire Quel Micro Secondo La cosa Giusta Da fare Quindi C'è da fare I complimenti A Marco Che stava Stava sbattendo Contro la difesa D'Alessio Poi Quando è riuscito A capire Che doveva Cambiare La partita Ha cambiato Stile di gioco A mio parere Ovviamente Da quello che abbiamo Potuto Vedere Ha cambiato Stile di gioco Dopodiché Appena ha visto Quel micro Spazio In quel micro Secondo Ha lanciato Il giocatore E l'abbiamo Potuto vedere Tutti quanti Live Anche Quella Decisione Sull'uscita Di Sommer Di a parte Di Alessio Perché Si aspettava Lautaro Martinez Con il passaggio Al centro Cosa che magari Aveva In mente Marco Il momento Che ha visto Uscire Sommer Ha cambiato Subito La decisione In quel micro Secondo E ha sparato La palla In porta Che poi Palo Rimpallo Portiere Quello che Ti pare Ha portato Poi Al gol Nel frattempo C'è la decisione Delle squadre C'è un altro Inter contro Inter E siamo pronti Ad andare A vedere La partita Quindi Ci ne vediamo Tra la seconda E la terza partita A fra poco Non c'è Non c'è da dire Gentilissimo Gambo È quello Che io Osservo È quello Che io Mi sento Di dire E spiegare Perché Per voi Che giocate A questi livelli Io magari Ci ho giocato Ho visto Ho esperienze E tutto quanto Ma c'è da dire Una cosa E voi Che giocate A questi livelli Vi sembra Una cosa Facile Ok Per chi invece Non gioca A questi livelli Sembra che Che amma mia Come ha fatto È semplicemente Che bisogna Allenarsi duramente Avere l'intuizione giusta Ed essere proprio In partita Tu lo sei stato C'è da ammirarlo Semplice Sei stato esempio In questo caso L'esempio Di una spiegazione Tra virgolette Minere a dire Scientifica Nella spiegazione Di una differenza Che c'è tra Chi ha solo La passione Di giocare E chi invece Vuole rendere Quella passione Un qualcosa Di importante Grazie comunque Dei complimenti Ovviamente Non stavo denigrando Quelli Comunque Alessio Aceto In questo caso Non abbiamo presentato L'avversario Il secondo avversario Di Alessio Aceto Ossia Del team Degli Eco È Michele Filippazzo Ossia Mi Ica 10 Per me sarà O Michele O Ica ragazzi Sia chiaro Perché Se incomincia a fare Mi Ica 10 È peggio Che non sciogli lingua È detto proprio Sincero Sincero Quindi sarà Michele Contro Alessio Alessio Ancora una volta Era pronta A partire A partire Decide di cambiare Qualcosa E vediamo Un po' Cosa Cosa porterà Questo cambio Nel frattempo Riparte con 3-5-2 E vediamo Se gli costerà Anche questa volta Il cambio modulo L'enorme spazio Dato All'avversario Siamo pronti A partire Sì è pronto È pronto Eccolo qua Ha tirato sicuramente Un Un tiro Di Un sospiro Ha fatto Siamo pronti Ripeto Gli eco Gareggiano Per cercare Di agganciare Il primo posto Perché sono a 12 punti Mentre il primo posto Se non erro è a 15 Mentre dall'altra parte I Fox Che avevano previsto Un campionato Mediocre Da media classifica Lo stanno rispettando E queste sono le partite Dove C'è da imparare Per loro Quindi devono dare Il massimo Per cercare di diventare Più forti La partita iniziata In questo caso Abbiamo Michele Che da la fascia sinistra Attacca verso la fascia destra Vestito di Nero Azzurro L'Inter In nero azzurro Quindi gli eco Da sinistra a destra Vediamo però Che è ripartito subito A bomba Anche in questo caso Si riparte a bomba Deglieco E guadagno subito Un calcio d'angolo Vediamo un po' Come lo gestisce La pallavaccia Analoglu Dalla tre quarti Sanchez La butta dentro Bedufis di testa Rimane lì Rimane lì Oddio Ma che parata Ha tirato fuori Che parata Ha tirato fuori Sommer È pronta A rifare un calcio D'angolo Alla stessa maniera A Coraciano Alloglu In questo caso Va a finire La Martinez Dall'altra parte Dufis Fermatutto Fermatutto Alessio E fermi tutti Perché si riparte A bomba Anche in questa partita Anche se mi sembra Michele Un po' più agguerrito Di Marco Vediamo un po' Cosa andrà a combinare Nel frattempo Alessio prova a gestire Un attimo La situazione Prova a rifare Un po' Quello che è Il piano della situazione La mette dentro Spinto Con un grandissimo Spalla a spalla Il giocatore di Alessio E non riesce Ad andare a fondo Con il colpo di testa Ora gestisce il pallone Ancora con il Klaassen A centrocampo Turam Lautaro Cianna Loglu Gestisce il pallone Barella Ancora Cianna Loglu Vediamo un po' La palla va a Turam Davanti a lui C'è Mkhitaryan Gestisce Lautaro Ancora Turam Voleva l'1-2 Si incastra la palla Tra i difensori Di Michele E in questo caso Adesso Michele A ripartire Con la palla lunga Lautaro Era un 4 contro 3 Era pericolosissima Quest'azione Pericolosissima E niente da fare Alessio ferma tutto Ed è pronta a ripartire Ancora Lautaro Ferma bastoni Ma la palla di domani è lì Cianna Loglu Gestisce La palla verso la fascia Pavard Ancora Cianna Loglu Vogliono bucare la difesa Di Michele Ancora Barella Allarga per Pavard Cianna Loglu Serie di passaggi Stanno aspettando il momento giusto Pissec E ferma tutto Si può ripartire il contropiede Michele può ripartire il contropiede Adesso con Sachez Chiama palla lunga Chi è Cianna Loglu Che poi si ferma Capisce che non gliel'avrebbe mai data E adesso Prova a difendere Alessio Colpo di testa A liberare Di Pavard Sul Lautaro Martinez Ha liberato Ma ha tenuto il possesso Ha tenuto il possesso Aiei Aiei Un po' sporco Questa uscita Da parte di Alessio E quindi Michele Gli prende il pallone In maniera molto tranquilla Molto facile Prova a fare l'azione Ancora il cross Dentro Un cross tagliato E la butta dentro Addirittura Bastoni Che sale dalla difesa Ma come l'ha andata Insaccare Ma come l'ha trovato Mamma mia ragazzi Che ho i cross E stiamo vedendo In questo caso Per quanto riguarda Michele Che sta puntando forte Su questi cross Perché se non sbaglio È il terzo O il quarto Che vediamo Quindi come si dice Non c'è tre Senza quattro Solo siamo inventati adesso Ovviamente E al quarto L'ha buttata dentro Ora è Barella A gestire il pallone Per la frattesi Turam Lunga Peddi Marco Ferma tutta Alessio E può ripartire Vediamo un po' Davanti a lui C'era Lautaro Non lo vede Non lo vede È partito Troppo presto Oppure La palla Noia Andata Un ripallo Attenzione Il ripallo Potrebbe riaccendere la partita Lautaro partire Indietro C'era lo stop Turam Ancora per Lautaro Che è in fuori gioco Sbaglia Alessio E quindi Può respirare Michele E rigestire Il suo attacco Bissek Largo per Donfris Andiamo a palla In primo momento Lautaro Poi gli ritorna In contro C'è analoglu Lautaro E lunga per Donfris Vediamo un po' Cosa va a creare Dall'altra parte Sono saliti un po' Tutti Dunfris La palla indietro Per C'è analoglu Il tiro addirittura A giro Lo tenta Tenta la trivela Dalla tre quarti E non dico che era Poco pericolosa Però poteva scatenare Qualche rimpallo Importante Quindi ora Alessio E gestire il pallone Lautaro Ancora C'è analoglu Michele Michele gestisce Questi passaggi Molto rapidi Alessio Però poi è costretto A tornare indietro Perché Michele Si difende molto bene Ed eccolo qua Alessio casca Nella gabbia di Michele E Michele Va a rubare il pallone Ora prova a gestire E sbaglia Il passaggio Dunfris E Michele Dall'altra parte Li sbaglia Quindi palla Centrocampo C'è uno sbaglio A testa E la palla Quindi ritorna Dunfris Di Michele La butta dentro Ancora con un altro Nostro genere Bastoni Sempre lui Ma si è inventato Un'acrobazia pazzesca Addirittura Sembrava Un tiro di tacco Se non erro Ma per aria Una mezza rovesciata Al contrario di Tà Non saprei come nominarla Tipo uno Scor... Boh Vorrei discorpiare Ma è anche sbagliato Non saprei come definirla Quel tiro Era fantastico Comunque Ma niente da fare La palla va alta Dall'altra parte Alessio prova a fare l'attacco Prova ad inserirsi Dentro l'area di rigore Ma niente da fare C'è ancora Michele Che blocca tutto quanto Un paio di scontri A centrocampo E vince ancora In impalli Michele è pronto A ripartire Sulla fascia destra Con Dunfris Vediamo un po' Dunfris Cosa prova a inventarsi Vola sulla fascia Poi bastoni Bastoni blocca tutto quanto E quindi Alessio è ripartito Tranquillo Vediamo un po' Se riesce a gestire il pallone Lo alza davanti E Mkhitaryan La riesce a spezzare Attenzione Forse un fallo Tutto regolare Tutto regolare Ma attenzione Perché era una cosa Clamorosa Che stava succedendo Con un cross alto La spizzata Mkhitaryan Su un bastoni Stava scatenando Un'azione molto pericolosa Da parte di Alessio Forse la più pericolosa Di questa partita Ma ferma tutto quanto In maniera Fortunata Michele Ed è pronto A cercare di finire Il primo tempo Non so se Attenderà L'1-0 Quindi attenderà Alla fine o attaccherà Sul finale Di questo primo tempo Che penso sia la cosa Più logica da fare Intanto Entrano tutti Dentro l'aria Bissek Lasciato da solo Lasciato da solo Colpo di testa Velenoso Fermato Dal portiere di Alessio Se non sbaglio Sommere in porta Gestisce Palazzo Dall'altra parte Tensì che Di Marco Si è impicciato Con Leotaro Vediamo un po' Se riesce a fare un passaggio No Il cross Dentro Per Turan Di testa Si sposta Sommere Sbaglia il palo E Turan Ne approfitta 2-0 Allo scadere Un po' Quello che avevamo previsto E un po' Quello che avevamo previsto Aspetterà la fine Per in saccalla E c'è riuscito 2-0 Per Michele Filippazzo 2-0 Per Lieco Contro i Fox In questo Primo tempo Scoppiettante Da parte di Michele E' partito a bomba I cross di Michele Sono veramente Velenosi Quanto I gol di Bastoni A quanto pare Ha fatto un gol E ci è andato vicino Al secondo Con un'acrobazia Pazzesca Nel frattempo Prova a cambiare Modulo Prova a cambiare Un po' Qualche Tattica Alessio E vediamo un po' Cosa Cosa va a succedere Prova a gestire Un po' Meglio La fase Sia d'attacco E E Diciamo Il posizionamento In campo In fase difensiva Già Vuole giocare Una squadra Molto stretta Quindi Probabilmente Ha capito Della potenzialità Di Michele Con i suoi cross E vorrà Sfruttare Una difesa Un po' Più compatta Nel frattempo Tira fuori Turam E mette Dentro Sanchez Attenzione Una cosa Una cosa clamorosa Molto alto Rosso Ma la palla E ora è con Lautaro Martínez Davanti a lui Può ripartire Dall'altra parte Michele Filippazzo Bentornato Bentornato Dunfri Se gestisce Il pallone Bissek Bissek Al centro Di ma Poi allarga Dall'altra parte Direttamente Di prima Intenzione Frattesi Verso Di Marco Mighitalian In pressing Su Di Marco Gliela prende Un primo momento Resiste fisicamente E poi la palla Cianaloglu Vede lo scatto Di Martínez Eccolo qua La palla è perfetta Lautaro Tenta il cucchiaio Tenta il cucchiaio Giustissimo Ma Somme Riesce a bloccarla Non ci casca Bellissima l'azione Partita Fulminea Da parte Di Alessio Ma Michele Non ci casca Gira dall'altra parte Il pallone In maniera perfetta Su Cianaloglu Sulla coscia di Cianaloglu Che va a fondo campo Poi torna indietro Limite dell'aria Per Michele Prova Il tiro A Trivela Io avevo un attimo Fermato per respirare Un attimo Ma Quel tiro A Trivela Mi ha levato il fiato Guardate il pressing Di Di Marco Invece Da un discorso A un altro È partito a cannone Gestisce la palla Poi ancora Il palo Fortunato Da parte di Alessio Potrebbe essere La sua partita Peccato che sta sbagliando Qualche Momento chiave Diciamo così Dovuto anche al pressing Costante Micidiale di Michele Per carità O l'elogio va A parte a Michele Perché ovviamente Sta giocando molto bene Poi qua ragazzi Qua non so cosa dire Qua non so cosa dire Se sono intrecciati gli occhi Pure a me Avete stazione Mi si sono intrecciati Gli occhi Anche a me Cianaloglu Fa un grandissimo Gol Dribbling In mezzo A tre persone Tre quattro persone Ho perso pure il conto Ci ho capito niente Ma butta dentro Una grandissima Palla Complimenti Complimenti Nel frattempo Alessio non molla Settantatresimo minuto Prova a fare un passaggio Nello scattante Sanchez Ma niente da fare Intercetta Michele Parte in contro Bene Col suo Sanchez Vediamo un po' Arriva quasi a fondo Campo Tiro di esterno Sommer blocca tutto In maniera tranquillissima Riparte quindi subito Mkhitaryan Attenzione Martinez Per Cianaloglu Ancora il tacco Per Martinez Un po' di spettacolo Vuole tirarlo fuori Anche Alessio Prova a entrare dentro Con Sanchez Eccolo qua La palla a Lautaro Vuole provare il tiro Lo viene fermato Molto bene Poi peccato per lui Che il passaggio Di prima di tacco Non si concretizza Non si concretizza Ma la palla è ancora sua Sulla tre quarti Con Mkhitaryan Uuuuh Barella vuole dare Un passaggio di ritorno A Mkhitaryan Ma niente da fare Gli viene tolta Ora Sanchez Da parte di Michele Che riesce a resistere Le botte di Dunfris E ancora Sanchez A levare la palla A Dunfris E Dunfris Poi la va a recuperare Ancora una volta Con l'intercetto Ora vediamo un po' Cosa si inventa Sanchez Fa un balletto Cileno Su quella fascia A mezzo a due Poi il tunnel Di Dunfris E fuori gioco Di Lautaro Fuori gioco Di Lautaro Parla Bastoni Lasso di Bastoni Scende in campo Guardate là Con l'1-2 Guarda come sta entrando In aria Eccolo Di Marco Il cross era dentro Per Bastoni Arriva Bastoni Il passaggio è dentro Sommer c'è Sommer c'è Si resiste a questa Cannonata 3-0 All'ottantatresimo Vediamo un po' Duram Figlio d'arte Tiene il pallone Sulla tre quarti Attenzione a Sanchez All'altra parte Entra Dunfris Di testa E ancora Sommer Ancora Sommer A salvare questo 3-0 Sanchez Il cross dentro Fermatutto 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 Alessio Vuole ripartire Contro Ma stanno tutti là Sia i suoi Sia i avversari Attenzione Attenzione Perché classe Sbaglia due volte E non lo perdona Gianna Loglu Penso sia ancora lui Non lo perdona 4-0 Sia ancora lui Il turco Il turco Di Michele Filippazzo Inarte Mica 10 La butta dentro Con un grandissimo destro Potentissimo Dal limite dell'aria Sfrutta qua l'erroraccio Di classe E poi non lo perdona Spara una silurata Anche se era abbastanza centrale Ma era una silurata 4-0 Degli Eco Contro gli Fox Che non possono fare niente Contro questa corazzata Prova Ancora classe Ancora sbaglia una volta Ragazzi Non c'è in partita Non è in partita classe O perlomeno Gli si è spenta qualche minuto fa E ancora E ancora Sommere a resistere Alle bordate Del Di Michele Che non si ferma La differenza Redi Conta tantissimo In questo Penso Finale di stagione Del campionato FIDE Perché ci sono Molte squadre Che stanno Nella parte alta Della classifica Quasi tutti A lo stesso punteggio E quindi La cosa determinante Poi sarà Anche La Se non erro La differenza Redi In questo caso Ne butta dentro 4 Michele E i suoi Ecco 4 a 0 Di Ecco Scanenatissimi Si era un po' Prevista questa cosa Ma Non era scontata Non era scontata Come abbiamo visto In Diciamo In trasmissioni Precedenti Come M contro Mezzo Se non erro Gli M Dovano Stradominare La partita E' finita 1 pari Ragazzi Quindi E' all'ultimo minuto Al 94 Come pare Quindi ci possiamo Aspettare Di tutto Nel frattempo Nel frattempo La partita I tre punti Se li aggiudicano Gli Eco Quindi In questo caso Intanto Ci ritorniamo Face to face Come si dice Ci rivediamo Qua in diretta E' Stavo dicendo In questo caso Conta Ovviamente La terza partita Conta sempre In quanto Potrebbe Essere Determinante Per la differenza A reti Quindi 4 a 0 Per gli Eco 4 a 0 Per gli Eco Nella seconda partita E ora Aspetteremo L'ultima partita In questo caso L'ultima partita Per quanto riguarda I ragazzi Degli Eco La giocherà Alessio Salsone I.M. Salso Che abbiamo potuto Già vedere In In un'altra diretta Da quest'altra parte I Fox Avranno ancora Schierato A TG Off Ossia Alessio Aceto Ce la sta mettendo tutta Quindi Già c'è la pressione Tra Una squadra Molto preparata Come gli Eco Rispetto ai Fox Nuovi nel Nel settore Ma Dall'altra campo Ci sono anche Tre giocatori Molto Molto Decisivi Molto forti Che si stanno giocando La vetta Della classifica Contro Da quest'altra parte Manca un attimo De riposo Per il povero Alessio Quindi E anche questa Molto determinante L'abbiamo vista Nella scorsa live Quindi nella scorsa Diretta Che il ragazzo Dell'I.M. Se non erro E Degli M Che sono Molto validi Sono una De quelle squadre Che sta In vetta In classifica Doveva giocare Contro E Se non sbaglio L'E.S.P.O.T.A.D. Se non erro Ragazzi Comunque Stava da solo E non è riuscito A tenere botta Perché c'è da dire Che queste partite Anche se durano 12 minuti Complessivi Perché sono 6 minuti A partita Sono molto Molto Stancanti Nel senso Una partita Giocata Ad alti livelli Ti Ti stanca Mentalmente Fisicamente Quindi Pensa a giocarne Due o tre Di fila Ma proprio Di fila Quindi Per chi capita Ovviamente Perché può Capitare a chiunque Questa cosa qui A chi capita C'è da farne C'è da farne Onore Se riesce a mantenere Un ottimo livello Cosa che È molto difficile Però Adesso Vedremo Insomma Se Vedremo adesso Se Alessio Salsone Continuerà L'andazzo Deglieco Con 5 gol 4 gol Mantenendo Comunque Sia Uno score Negativo Abbastanza Basso Come L'unico Gol Preso Da Marco Cammino O addirittura Zero gol Presi Da Michele O addirittura Sarà una partita Bella Bella Di livello Dove Alessio Riesce a stare Tranquillo Perché non ha più La pressione Dei punti In ballo E quindi magari Può giocare Più tranquillo Più sereno Mentre dall'altra parte C'è il controllo Della differenza Redi E quindi automaticamente Potrebbe stare Sotto pressione Sono piccole cose Che Noi che guardiamo È facile Dillo Facile Sta tranquilli Non ci cambia niente Noi stiamo quasi tutti Magari Chi sta con qualche popcorn Patatina Coca Cola Grazie per il forum Chi sta in campo Chi sta in campo Invece ha molta difficoltà Di riuscire a trovare Il nome Il loro Il loro nome In arte Ma si chiamano Tutte e due Alessio Quindi mi mettono In grande difficoltà Nel frattempo Io vi saluto E ci vediamo Direttamente Nella partita Ci vediamo dopo Per i saluti Allora Eccoci qua Eccoci qua Vediamo un po' Cosa andrà a succedere Da una parte Se non erro Salso O Aceto Aceto Prende il Milan Contro il Frosinone Attenzione Amsalso Prende il Frosinone E dall'altra parte Alessio Aceto Risponde Con Il Milan O al contrario No Sì Il Milan Ok Frosinone Per Salso E Milan Per Atg Mi sa Mi ritorna più facile Nominarli In questa partita Assolutamente Salso E Atg Facciamo così ragazzi La rendiamo facile Perché se no Perde palla Alessio E la conquista Alessio Comunque Avremo Da sinistra A destra Il Frosinone Di Alessio Salsone Per Glieco Dall'altra parte Abbiamo il Milan Di Alessio Aceto Per quanto riguarda Dei Fox Dico Avverto Per chi si è unito Ultimamente O chi non sa Regolamento Che L'overall Come potete vedere Sono tutti 95 Quindi ogni squadra Di serie A e serie B Che si voglia prendere A 95 I giocatori Quindi sono tutti quanti Equilibrati Per L'overall Del 95 Cos'è che li distingue? Li distingue Le abilità Che quest'anno Hanno i giocatori Per quello Si sceglie molto Il Milan E a sua volta Sta prendendo Molto piede L'Inter Perché È una squadra Che Ha maggiormente Giocatori Con Le skill Chiamiamole così Ma non le skill Di Di giochetti Ha le skill In senso Ha questi Chiamiamoli Poteri Questi Questi Boost Di abilità Che Sono molto Decisivi Nel frattempo C'è da dire una cosa A TG Per la prima volta Cioè No per la prima volta Lui Per la prima volta In live Vediamo Giroud In panchina Quindi Olivier In panchina Chissà se lo metterà Nel secondo tempo E ci regalerà Il primo gol Di Giroud In 4 live Perché sono 4 dirette Che facciamo Non abbiamo mai visto Segnare Olivier Comunque La partita Sta partendo Il Frosinone In veste Totalmente Blu Di Salso Invece Il Milan Di ATG Totalmente In bianco Da destra Verso sinistra Giustisce palla Con Romagnoli Allarga per Sule Impressio Dalla Juventus Davanti a lui Caio e Giorgia Ancora per Lirola Lirola Prova ad arrivare Fino a fondo campo Poi indietro Per Ibrahimo Ma ferma tutto Il Milan E quindi adesso È pronta a ripartire Cocafor Leao Vediamo un po' Leao Prova il giochetto Ma niente da fare Lirola Non ci casca Riesce a anticipare Il tempo Dell'errore Di Leao E li va a rubare Il pallone Adesso è Sule Sulla fascia Vediamo un po' Gestisce un po' Un paio di giochetti Vediamo cosa va a combinare Sule Gestisce la palla Poi Caio e Giorgia E Lirola Ancora su Leao È un asset Tra questi tre giocatori Meraviglioso Poi la palla va fino a Magnan Calabria E vediamo un po' Se ATG riesce a gestire Quest'azione di contropiede Ciucuese Per Okafor Okafor Aspetta il passaggio Lungo Per Leao Ferma tutto Lirola Meravigliosamente E poi Romagnoli Marchizza Può ripartire Il Frosinone Che allarga dall'altra parte Per Lirola Ancora Fermato però Da Teornandez E ora è Leao Leao Meravigliau Fermato Da un grandissimo Romagnoli Vediamo un po' La palla lunga Del Frosinone Lirola verso Sule Vediamo se Teornandez Riesce a resistere Alla fulminata di Sule Sì Sì Ma poi sbaglia Calullo In un primo momento Riesce a tenere palla Bennazer Che poi va a perdere E ora Riener Riener Mazzitella Davanti a lui Caglio e Giorgio Gestisce bene La palla Il Frosinone Tanto il tiro A giro Il palo Il palo Benedetto Del Milan Salvo da un palo Ancora Adesso gestire Palla Lirola Un attimo Un attimo Di Questo Frosinone Sta schiacciando In casa Il Milan Che non riesce a uscire Dalla sua tre quarti Pulisic Tiene il pallone Prova il passaggio Ciuguez E la recupera Pulisic Prova ad allargarla Alleao Sceglie di darla A raso terra E perde il pallone Perché viene intercettato Meravigliosamente Dal Frosinone E ora ancora Tiene palla Marchizza sulla tre quarti Palla davanti a lui No Si ferma E la gira Ibra Poi l'off Tuscic Recupera il pallone E poi c'è Ciao Che prova a gestire la palla Adesso il Milan Alleao All'indietro Per Teo Hernandez Prova a sfruttare Il trenno Teo Hernandez Niente da fare Ferma tutto questo Frosinone Che non fa respirare il Milan E' pronto con il suo pressing Gestisce la palla Adesso La palla per Sule Dal limite Il tiro L'incrocio dei pali Sule prende un incrocio dei pali Ancora il Milan Che riesce a essere A battezzare quella porta Con due pali Gestisce la palla Mi viene da ridere Ragazzi Perché questo Frosinone Si sta mettendo Tutta anima e corpo E per due volte Sbatte E prende il palo Praticamente Gestisce ancora la palla Da destra a sinistra La baragancea Davanti Passa sotto le gambe A Teo Hernandez Ed ora è Sule Vediamo un po' Se Tomari riesce a toglierla Sule Sulla fascia Gestisce la palla Ancora Sule La butta dentro Con un tiro a giro Fatto in perfect L'ho visto ragazzi Ho visto quel triangolino Colorato di verde Fa un grandissimo Gol a giro Sule La butta sotto L'incroci del secondo palo Un grandissimo Gol Di Alessio Salsone 1-0 per Lieko Ora palla a Pulisic Per l'attenzione Vediamo un po' Se riesce a gestire meglio Il pallone Niente da fare Tomori Pulisic Leao Pulisic Ancora per Leao Prova a gestire La palla Il Milan Ma poi si chiude bene Il Frosinone Gliela intercetta E poi ripartita In contropiede Ora Ranieri Ancora per Marchizza Ibrahimovic Lancia lunga Verso Marchizza Ferma tutto Quanto Calabria E ATG Prova a risfruttare La sua velocità Dall'altra parte C'è Ciuquenze Lo vede Leao Attenzione Ciuquenze Ha portato la palla Troppo lunga Eudrelli Eudrelli Leao Lirola Lirola lo tiene Fisicamente Lo tiene Meravigliosamente E quindi Poi Ocoli Mazzitelli Lirola Attenzione Che Mazzitelli Va dritto Verso la porta Salgono tutti quanti Sule Ocoli A destra Sinistra Poi al tirare A destra Di interno Basso La doppietta Di Sule Infermabile E' infermabile Questo giocatore La Juve si sta Mangiando le mani Per averlo Mandato in prestito Ciao Prova il passaggio Lungo Ma la scivolata Un impredict Funziona Meravigliosamente Ancora per Alessio Salsone Il suo attacco Con Marchizza Sulla fascia Prova a crossarla Dall'altra parte C'è Lirola La rimette Dentro per Sule Ancora Lirola Sule Bagnan Grandissima la parata Grandissima la parata Vediamo un po' Adesso cosa va a succedere Prova a fare Qualche passaggio Il frottino Dal limite La butta dentro Troppo lunga Per Mazzitelli E finisce così Il primo tempo 2 a 0 Per il frosinone Di Alessio Aceto E degli Ecco Vediamo un po' Se adesso Cambia il modulo Con un 4222 Butta dentro Jiu A posto di Okafor Vediamo un po' Se fa qualche altro Cambio tattico Non mi sembra Non mi sembra Che Alessio Aceto E il suo Milan Faccia qualche cambio Faccia qualche cambio Però gestisce La squadra Cambia qualche tattica Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa ci va a creare Vuole fare più densità Vuole avere la squadra Un po' più Compatta E vediamo un po' Cosa succederà 3 2 1 Stiamo per ripartire Attenzione C'è ancora un time out Curiosi di questo time out Vuole portarsi a casa La vittoria Di questa partita Di questa terza partita Che è Comunque Da pareggiare Ancora ragazzi Quindi non è da sottovalutare Questo pareggio da fare Siamo pronti a ripartire Adesso Eccoci qua 3 2 1 Siamo pronti a ripartire Con la palla Al piede di Alessio Aceto Con il Milan Gestisce la palla Subito Vediamo un po' Vuole lungo La battuta Subito Giroud Ma niente da fare Si gestisce questa palla Palla per Pulisic Giroud Leao Gira la palla All'off to chic Ciuqueze Bennazer Giroud Ancora Leao Leao per Giroud Ciuqueze Forse è fuorigioco Tutto regolare Giroud La fa passare sotto Autocoli Ma la palla poi non passa Attenzione Il Milan Può ripartire molto bene In questo secondo tempo Ancora Ciuqueze A prendere il pallone Leao Vediamo Pulisic Prova il passaggio dentro Per Leao Non passa Non passa la palla E quindi adesso Il frasinone Ripartire in contropiede Lirola Andiamo un po' Leao Leao La tiene il pallone Bennazeri La fa rubare L'off to chic Davanti a lui C'è Giroud Giroud Ciuqueze Palla dentro Per Giroud Prova il tiro Al volo Si impiccia Con la difesa Cioè Protesta Anche per un calcio Di rigore L'albio Non dà niente E quindi E' to mori Ancora Giroud La palla Per Leao Prova il tiro Il 2 a 1 Il 2 a 1 Alessio si avvicina Il 2 a 1 Alessio si avvicina Al pareggio Alessio avvicina Al pareggio Con questo gol Di Leao Gestisce palla Adesso Salzo Alessio Salsone Prova a tenere ancora Il pallone Vediamo un po' Adesso Com'è Com'è la risposta A questo gol Subito Intanto Leao Prova a fare un tacco Troppo lezioso E quindi il frontinone Ora pronta Di partire Bene Ci siamo Ci siamo C'è stato un attimo Un momento di blackout Un momento di lag Ciuquezi Palla Bennazer Ancora Pulisic Parte lungo Giroud Pulisic Diene il pallone E poi allarga Verso Teo Hernandez Vediamo un po' Teo Hernandez Ciuquezi Ciuquezi Bennazer Tomori Gestisce palla Al Milan Vuole cercare Di acchiappare Questo parigi In questo momento Vediamo un po' Leao Sale tutto quanto Il Milan Loftusic Ancora sulla fascia Calabria Leao Ancora per Calabria Tiene la palla Calabria Davanti a lui È arrivato Leao Ecco il passaggio Ciuquezi 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 Prova Giroud Giroud Giacic Alloftusic Bennazer Pulisic Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando A quest'azione Frosinone È tutto chiuso In un fazzoletto Di campo Il Milan Sta impazzendo Per destra Sinistra Non sa come entrare Palla lunga Si è aperto Uno spiraio La finta Di Leao Doppia finta Ciuquezi Ancora lui Il passaggio Peleao Tira addosso La difesa Ed ora il Frosinone Può ripartire Attenzione Che il Frosinone Può ripartire Gestisce 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 Decide di gestire Palla larga Per Lirola Dall'altra parte A Marchizza Il Milan È bello aperto Perché sta cercando Di sfruttare Tutte le sue energie Per andare a chi appare Il pareggio Ora Marchizza Ancora sulla fascia Palla a Mazzidelli Brahimocci Da limite Dell'area Sule Pronta a fare Una tripletta Sbaglia E l'abbiamo visto Quel rosso Lassopra Non gli entra Il perfect E fallisce Il tiro Loftusic Benasera Ancora per te Hernandez Vuole sfruttare I suoi cavalli La sua rotaia Il suo treno Ma fermato Da un Frosinone Scatenato Ora è caso È il caso Di Dalla Lirola Lirola Entra in area Indietro per Caio Giorgio Ancora caso Caio Giorgio Il numero Di caso Niente da fare Ma la palla è ancora lì Mazzitelli Barra Gincea Di esterno Magnampara 75esimo minuto Ciao La palla per Ciuqueze Ci vuole andare Leao Ciuqueze La recupera Eccolo qua Ciuqueze Era partito Leao Eccolo qui Lo vede Lo vede Parte lungo Leao Gestisce Gestisce la palla Ora Ancora Ibrahimovic Caso Il numero 10 Frosinone Si impiccia Con Ibrahimovic Ottantesimo minuto Attenzione Non è finita Qui Teo Hernandez La palla è per Benazer Gira la palla ancora Per Love to Sheik Vediamo un po' Cosa crea il Mila Adesso Con Olivier Giroud Giroud Leao Ciuqueze Attenzione A Leao Ancora Ciuqueze Tenta il tacco Niente da fare E quindi Ora Sule Sule Per Caio Giorgio Vediamo un po' Come la gestisce Caio Giorgio Allarga verso Marchizza Pericolosissima Adesso Questo attacco Del Frosinone Dall'altra parte C'è Sule Ancora stop Passaggio dentro Una serie di rimpalli Che salvano poi il Milan Attenzione Che il Frosinone Non si arrende Scivolata Ma la palla Va in calcio In calcio Dalle messa del fondo Perfetto Ho mischiato un po' Le cose Ora Giroud Prova a tenere la palla Si impiccia un po' Il Frosinone Che gliel'aveva strappata Giroud Gestisce la palla Intanto aumenta il pressing Chiamata Dalla panchina Alessio Cedo Più pressing Da parte di questo Milan Che deve recuperare Questo pareggio Ora è caso Gestisce la palla Baraghin c'è Ibrahimo C'è ferma tutto In primo momento Poi Hernandez La recupera Poi ancora Tomori Che si impiccia Ma la tiene lui Ora è Calabria La palla La palla va fino a Leao Leao Ciugueze C'era il passaggio Di prima Ma lo sbaglia E quindi Marchizza Girare dall'altra parte Verso Lirola Vediamo un po' Sulle Tirare il pallone Ci va di contrasto Niente da fare La tiene sulle Sulle Vola su quella fascia Tutto da solo E poi viene fermato Viene fermato Dante Hernandez Pulisic Finisce ma finisce qui Finisce qui con un 2 a 1 Da parte degli Echo Da parte di Alessio Salsone Complimenti a lui ragazzi Mettiamo subito qua Il punto sul 2 a 1 Finisce così la partita Tra Echo e Fox Con un 3 a 0 secco Tirata c'è stata soltanto L'ultima partita Le altre due sono state Abbastanza segnate Dai risultati Ma comunque Fino a che Alessio è riuscita A mantenere la concentrazione Sono state partite Abbastanza Abbastanza gestite bene Ma poi alla fine Il sopravvento E l'esperienza Da parte Degli Echo Hanno portato A casa I tre punti Con ciò ragazzi Io Vi ringrazio Di essere stati Qua in live Ringrazio anche se C'è stato un passaggio Di poche persone Nel senso che C'erano persone che sono rimaste Persone che sono nude Persone che se ne vanno Io ringrazio tutti quanti Perché è sempre un piacere Avervi qui live Avervi in questo caso Il mio canale Ci vediamo prossimamente Con la prossima comunicazione Del campionato FIDE Per la settima Per l'ottava partita Ragazzi ci sarò Per l'ottava partita Quindi quando il campionato Piano piano Sta verso la conclusione Quindi ragazzi Io vi saluto Vi auguro una buona notte Una buona serata Più che altro Da Gladi E tutto quanto Un bacione Ciao ragazzi Grazie a tutti